Siamo un'azienda con sede a Rose in provincia di Cosenza, nella Valle del Crati. Facciamo prevalentemente miele d'api di vari generi, dai più classici anche qualcosina in particolare, dal momento che la nostra terra ce lo permette, e variamo anche con i prodotti tipici calabresi. Comunque avendo la terra riusciamo a fare qualcosina, avendo dei boschi bellissimi riusciamo ad andare a funghi, il porcino silano che è un'eccellenza, abbiamo un bel po' di famiglie d'api, le spostiamo sul territorio, e poi andiamo a fare, per esempio, aprile-maggio la caccia in vallata, piuttosto che il castagno in montagna, in sila. Non abbiamo produzioni industriali, ok? Ci muoviamo su tutto il livello nazionale, ovviamente di più in Calabria, però arriviamo anche qua a Milano, facciamo sagre nel centro Italia, nel Lazio, insomma ci spostiamo. Al prossimo episodio